Bellissimo Twister Posso aumentare un po' ragazzi? Tutto ok? Si può aumentare? E allora aumentiamo? Si va un po' giù? Guarda con lei Se cercate Nicola è qua la cassa Nicola bimba è qua la cassa del Twister ragazzi Se cercate una bimba di nome Nicola è qua la cassa del Twister